un saluto a tutti da snowkills e ben ritrovati un nuovo video su caster clash oggi in un video rolling siamo con l'account di patatatrick che voglio ringraziare per avermi dato la possibilità appunto di fare questo video mi ha chiesto di cercarli gli ultimi eroi praticamente l'ultimo anche questa fighissima skin del duca zucca quindi speriamo di trovarli anche perché finora non sono mai stato in grado di droppare il nuovo sasquatch quindi andiamoci a rollare queste 16k già mi ha detto di rollarle tutte quante e andiamo un pochettino a vedere se questo primo rolling del 2018 sarà un pochettino più fortunato degli altri invece gozilla di neve cioè eravamo lì 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 e ci assomiglia pure piccolissimo in confronto vediamo un po 4 50 niente da fare tutti i blu non so se se le stessi mettendo da parte queste gemme o se le ha scioppate in ogni caso siamo a 13 mila e niente il triplone non ci porta a nulla non ci porta vediamo un po' l'infa di cristo gozilla diciamo ragazzi 50 eroi due gozilla di neve cioè ma stiamo scherzando wala wala che però ha già l'ho visto prima scorrendo ovviamente un doppione però wala wala è il primo wala wala che droppo ragazzi giuro quindi fighissimo vediamo un po' se e con un 4 e 50 adesso le prossime 12 mila gemme ce le farà sudare leggendari dopo questi bei tre gozilla di neve un wala wala dobbiamo liberare qualche slot ok proseguiamo quindi con un bel 4 e 50 che ci offre un tricolore ma attenzione il golem il golem che sicuramente c'era già il golem per chi mi ha detto che cerca gli ultimi eroi niente questo triplone faccio un po' di singoli magari uscirà dal dal singolo come il wala wala ci stupisce wala wala dai ti prego niente ragazzi un'altra volta devo liberare slot ok le ultime 9000 gemme il triplone che non porta a nulla qualche singolo campione ragazzi sono di una sfiga allucinante incredibile dai un sasquash 200k milioni di gemme ho rollato finora niente non vuole uscire siamo sulle 6000 e niente da fare neanche l'ho finito a dire che sono stato sommerso dai blu 4 e 50 niente solo blu siamo a 5000 gemme ci facciamo qualche singolo dai qualche singolo che magari da qui esce stupiscici un botte il paladino dai l'avevo appena bruciato uno me ne è uscito un altro subito a coprire sulle 3700 gemme 4 e 50 un altro 150 4 e 50 ti prego le ultime fai uscire qualcosa è incredibile ragazzi 50.000 eroi guardate quanti blu dovrebbero uscire viola come se non ci fossero un domani vediamo come se non ci fossero un domani gli eroi come se non ci fossero un domani gli eroi ultime ragazzi 150 gemme max tristezza se non troviamo il sasquash in questo roll singolo e niente da fare ragazzi niente da fare che cosa vogliamo dire penso ci sia un evento che possiamo andare a spacchettare mentre commentiamo ovviamente questo questo roll che ragazzi tra il roll precedente che non so se avete visto nel caso ve lo lascio nella descrizione cioè vi apparirà qua sopra e questo ho rollato davvero tantissime gemme del sasquash nemmeno l'ombra e soprattutto nemmeno l'ombra neanche di athena e eroi di questo tipo dagli ultimi diciamo gli ultimi usciti veramente una tristezza assurda le probabilità io non so quanto siano bassi trovare effettivamente questi eroi no penso che oltre quei bonus non ci sia null'altro da fare su questo accanto appunto che mi sono dato ragazzi sono veramente un pochettino deluso perché in queste gemme veramente non sono riuscito a trovare niente e veramente già nella mia depressione di castle clash questi roll me l'hanno fatta davvero aumentare devo essere sincero perché incredibile aver droppato per due volte gozilla di neve c'è la poi anche nell'ultimo roll un sacco di doppioni e mi sembra una cosa veramente strana e improponibile in ogni caso fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate appunto di questo roll e del fatto che escono veramente doppioni nonostante gli eroi continuano ad aumentare di numero e le probabilità di droppare un nuovo eroe effettivamente non posso non potranno mai essere scritti cioè secondo me è scriptato trovare un nuovo eroe non è come trovare una copia e non è come trovare quelli vecchi quindi in ogni caso non lo so fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate nei commenti ringrazio ancora padatric per avermi fatto fare questo video rolling lasciate un bel like ovviamente se vi è piaciuto io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video